Musica Ci ritroviamo al consueto appuntamento che è uno degli appuntamenti più importanti della costa tirrenica Cosentina e non solo, sicuramente per tutta la Calabria il premio Galeazzo di Tarsia quindi un premio che ovviamente di anno in anno vede notevole interesse ma anche allo stesso tempo la qualità di questo appuntamento organizzato sapientemente dalla Proloquo del Monte con la dottoressa Giovanna Ruggero e che oggi ovviamente raggiunge la 29esima edizione quindi un appuntamento interessante che calibra un'attenzione legandolo al personaggio ma legandolo anche a quella che è la qualità di Belmonte Calabro come un pli provinciale ma anche regionale accompagniamo da sempre questa attività e diamo quel valore aggiunto evidenziando la qualità organizzativa ma evidenziando anche l'importanza di questo premio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!